allora buongiorno oggi ho il piacere di proporvi questo appartamento posto ad un sesto piano ci troviamo in via donaver allora entriamo dentro l'appartamento allora qui è la zona d'ingresso particolarmente ampia come si può ben vedere qui una sala l'appartamento è dotato di un terrazzo sovrastante quindi molto interessante dal suo punto di vista usciamo dalla porta finestra certo un appartamento che va rivisto ovviamente nelle sue parti questo è quello che possiamo vedere da dal balcone un balcone particolarmente grande la casa è dotata anche di aria condizionata continuando con la visita rientriamo nell'appartamento ovviamente come vi dicevo c'è la possibilità di distribuire anche gli spazi quindi ipoteticamente questa davanti a noi una tramezza e si può tirare giù chiaramente allora poi alla nostra sinistra abbiamo questa ampia e luminosa cucina dotata anch'essa di porta finestra qui il bagno di generosissime dimensioni con attualmente appunto la vasca che si può portare eventualmente in fondo e creare come si usa oggi con il box doccia in fondo e qui la camera da letto particolarmente grande come si può ben vedere vi faccio vedere la faccio che avevamo visto prima quindi usciamo dalla porta finestra è una casa che sicuramente ha delle belle potenzialità quindi questo riusciamo appunto come vi dicevo dalla dalla camera e ci rimettiamo nel balcone e poi infine abbiamo la dispensa alla nostra sinistra eccola qua quindi facendo un veloce riepilogo abbiamo detto la camera da letto la dispensa il bagno e qui abbiamo la cucina il corridoio con questo ingresso classico un po la genovese che volendo si può tirare giù tra mezzo davanti a noi e questa è l'altra camera o vara sala ora vi porto a vedere quello che è il terrazzo sovrastante